Ciao a tutti ragazzi da Corgiunto 9, bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. Oggi sono qui con l'unboxing di Pokémon Art Academy, nuovo gioco per Nintendo 3DS. Ragazzi, come sapete, sono in vacanza, quindi ho una location e un tavolo un po' diverso, ma come sapete non mi fermo nemmeno qui. Intanto, ragazzi, grazie mille per i 2000 iscritti che abbiamo da pochissimo raggiunto, grazie di cuore a tutti, veramente. Ovviamente continuerò e spero di raggiungere tanti altri traguardi. Ora facciamo questo unboxing, appunto l'ho presa in vacanza al GameStop, dopo tante ricerche, e quindi non avrà il celof, dato che era proprio l'ultimo, mi ha detto, cioè, fatalità, speriamo di sì. Va bene, quindi non avrà il celof, ma sarà comunque un unboxing, perché appunto apriremo la scatola e vedremo il contenuto. Ah, prima di aprire, giustamente. Faccio vedere un po' meglio, ecco, facciamo così lo sfondo iniziale. Potete vedere un po' come Art Academy con i disegni di Pikachu, sulle varie fasi per disegnare e poi colorare, ovviamente. Il retro, vediamo delle prove di disegno e di parti scritte, troviamo solo questa qui. Scopri l'artista di Pokémon che è in te, tante coinvolgenti lezioni per imparare a disegnare i Pokémon in modo facile e divertente. Sempre più cose facili e divertenti esistono. Più di 100 Pokémon disponibili, poi bisogna salvare, comunque, c'è davvero un bel gioco, ragazzi. Chissà se ci scappa un bel gameplay, magari non da tantissime parti, ma comunque così per divertirsi. Bene, ora passiamo alla propria apertura. Il pin, ragazzi, per, come si dice, per andare a far parte del campo Nintendo, eccetera, eccetera. Poi, vediamo qui dei consigli ai giochi, come al solito, ma sono sempre i soldi. E poi qui dei software per l'istruzione, per il 3DS. Ok, ancora giochi. Ecco qui, con le cose. Non ho trovato la guida rapida, non so perché fosse l'ultimo, magari fosse stato l'ultimo, allora non c'era, non le avessero tolte, non lo so, però comunque non c'è. Il 3DS è la cosa che ci porta di più. Andiamo a scoprire chiaro tutto. Aspettate che qui... Allora, abbiamo la famosa schedina, dischetto, giochetto. Pokémon Art Academy, ragazzi. Bellissimo, davvero. Io spero sia bello anche nel gameplay e che mi possa intrattenere questo gravissimo gioco. Quindi, ragazzi, un bel mi piace, scrivete e commentate. Io spero di portarvi al più presto il gameplay. Tanto spero che questo unboxing vi sia piaciuto, e abbiate un po' visto come è fatto. E se avete voglia di prenderlo, prendetelo, insomma. Non mi danno niente. Quindi, ragazzi, un bel saluto dal vostro Corazionato 9. Mi piace, scrivete e commentate. Mi piace anche la pagina Facebook. E iscrivetevi al secondo canale. Ciao, ciao!